Rinviata al 6 marzo l'udienza per l'assenza del giudice. La vicenda è quella relativa alla lottizzazione abusiva in località Castello a Marina di Camerota. Presso il Tribunale di Vallo della Lucania si doveva decidere sul rinvio a giudizio per 40 indagati, chiesto dall'allora a sostituto procuratore Alfredo Greco. Il processo penale vede coinvolte decine di persone, tra cui anche tecnici comunali, accusati a vario titolo per reati di natura edilizia ed ambientale. Stamattina era prevista la discussione dei difensori, al termine della quale il GIP avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. Ma nulla da fare, se ne riparla il 6 marzo. Al centro dell'inchiesta, partita nel 2009, la realizzazione di una lottizzazione in località Castello, alle spalle del porto di Camerota. La zona è sottoposta a vincolo paesaggistico e drogeologico, quindi per eseguire i lavori sarebbero stati necessari atti autorizzativi paesaggistici mai ottenuti. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura Vallese hanno portato al sequestro dell'intera area, ampia a oltre 30.000 metri quadri, sulla quale era previsto il sorgere di 30 unità abitative. Ad accorgersi delle ruspe in azione sulla collina del castello furono Norascire e Carmelo Mola, loro tecnici della sovrintendenza, che si trovavano a Marina di Camerota per controlli relativi al porto. Pare che la sovrintendenza, qualche anno prima, avesse dato solo un parere paesaggistico di massima sul piano di lottizzazione, ma alcun parere positivo sui diversi progetti esecutivi. L'avvocato Nicola Suadoni, legale di alcuni indagati, ribadisce, ritengo che sia stato coscientemente e legittimamente seguito l'iter burocratico per il rilascio delle licenze edilizie. Nelle precedenti udienze le parti avevano presentato memorie ed il Gup De Simone aveva nominato un perito per accertare se fossero sussistenti sotto il profilo tecnico i reati contestati. La nomina del perito successivamente era stata revocata dal Gup Valeria Campanile. In seguito ad ulteriori chiarimenti del proprio consulente, l'allora sostituto procuratore Alfredo Greco chiese il rinvio a giudizio di quasi tutti gli indagati.